La pesca subacquea per me è magia, essere in acqua, ti perdi, ti perdi nei tuoi pensieri, sei veramente te stesso, penso che sia l'unico posto nel mondo in cui sono me stesso. È stata una grande scoperta e una grossa soddisfazione non solo per quanto riguarda l'oggetto, cioè il fatto di riuscire a prendere un pesce, ma la possibilità di passare così tante belle ore in un ambiente stupendo come il mare. Spirit fishing is my life. Spirit fishing is my life. È il momento di me trovare solo con me stesso, là dove mi sento migliore. Spirit fishing is my life. Spirit fishing is my life. Spirit fishing is my life. È un esutoire, mi permette di lasciare la pressione di lavoro e di non perdere il stresso di quotidiano. La piscina è una grande parte della mia vita. La forma che la piscina riflessa è di chi sono. La pesca submarina per me è un momento di trovare a me stesso, di essere in l'acqua, di avere sensazioni che non hai in qualche altro sport. Mi piace, mi piace. La cosa che mi piace è la parte più importante e essenziale della mia vita. La pesca submarina è stata e continua a avere un lavoro molto importante nella mia vita e nella mia vita che sono oggi. È un momento di introspeccio che mi ha fatto un sogno. Mi ha fatto un sogno di nuovo. Mi ha fatto un sogno di fare nuovi amici, conoscere alcuni locali magnifici e aprendere con molta gente. Mi ha fatto un sogno di sentire la nostra insignificanza quando stiamo nel medio del mare, completamente sozini. È un momento unico e, talvez, di introspeccio, che è abbastanza profondo e che mi mi marca abbastanza. Perchè per me è un sogno di segno saluto in cui sei andato. Ho aspettato la mia vita che mi scrivevi la sua paura, Perchè per me è un po' come il numero di cose. Ma non c'è un sogno di essere? Cosa che siaro, lo saperemo faccia per me è che un sogno di queste le riduzone. Perchè per me è una fissura. Questa città è un sogno di essere attrapposto in cui da un sogno di sorpresa. Perchè per me è un sogno di un sogno di sogno di costo. Quando ti acconti per me è un sogno di tante parlare. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti